ehi salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio di suona fantasy sotto le masse devi chiedere perché siamo qui perché farò comunque la side quest del ghiap tus e poi vabbè poi continueremo con la storia quindi dai quindi come magia zero anima antima è tornato quindi potrei pensare di accumulare le magie zero sperando che non ci fai culo oddio quasi quasi potrei anche fare una compilation per registrare tutte le limit break di quisis credo quando colpa del destino voglio che la faccio vedere metto l'attacco dai in disintegrazione non credo che lo farò con il giro è più difesa così si proteggiamo 10 mila chi siamo che non lo fa ah meno male che non l'ha fatto a scuola a Firenze forse probabilmente sarei fottuto se faceva 10 mila chi a scuola ok siamo subito nel travolto e non mi sento tanto sicuro al momento qua mi sembra anche di guardia forse qua credo che visto che c'è l'isola più vicino all'inferno è l'isola più vicino al paradiso credo che potrei farci un pensierino nel ah infatti che non sto sperando che ok è quello di cattus quindi credo che oddio tec l'unico oh hai rotto il cazzo quindi fine diventò cook and go scuola respiro è spocato questa è la stessa limit break che ha la magia la stessa magia a blu che ha a coso no ok dai speriamo che magari si scatterà un cuore di vieta man ok ho fatto ho fatto la filetta stavolta con i tregi ocupa riproviamo mannaggia perché non capisco perché la squadra non ha messo la vibrazione nell'anima 10.000 laghi di nuovo porca troia stavolta di scuola porca troia rialza di scuola questo è proprio il pilazzo principale della squadra guarda porca troia con la vibrazione mi sarebbe stato qui ok ce l'abbiamo fatta e abbiamo ottenuto una nuova guardian force quindi credo che potrebbe terminare anche qui questo episodio dedicato alla side quest e abbiamo ottenuto una nuova guardian force quindi ragazzi termina qui anche questo episodio di Final Fantasy VIII e credo che al prossimo episodio continueremo con la storia e Grazie a tutti.